Un po' divenita informazione Una volta in aria è un altro paio di mani Un po' di sensibilità a timore Un po' di sensibilità a timore Ecco, ti è qua Alve No! No! Strigo un po' Anima Stavi sparando Cosa? Stavi sparando, sotto un tatatatata Troppo lungo, sei Games Ma quanto sei di manetta giudica? i mainfold sono a 35 nella manetta fisica sarò neanche a metà infatti è no perché sei molto lente faccio pratica 40 i mainfold adesso adesso salgo un po adesso sono davanti a te in basso a Reo 12 ecco tu, questo l'isola è buona ok, provo a venire in formazione da te sopra a correre la sistema Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come siamo bellini? Mi sto sfondando un braccio perché appena mi muovo di mezzo millimetro. Sì, è vero, è vero. Eh, devo sistemare curve ancora. Ah, dove c'è la tua sceglia? Pronto? Quella? Eh, ho avuto problemi con le cuffie. Scusate. No, proprio. Com'è? Tutto a posto, tutto a posto. Perché stiamo calzeggiando? Porca miseria! Stai cercando di battere il 5 con l'ala? Eh, stai cercando di venire il più vicino. Oh, possibile. L'americanen che cerca di abbattermi. Brucco bastardo.